Una novità esclusiva dalla Mupi, il Cinevisor col Telecontrol. Col Telecontrol si comanda a distanza e le immagini si possono fermare. Puoi provare anche a me? Con il Cinevisor Mupi si possono vedere i films con tutti i personaggi preferiti dai ragazzi. Braccio di ferro, Sandokan e tutti i più famosi eroi dell'infanzia. Solo il Cinevisor Mupi ha il Telecontrol per goderselo in poltrona. Cinevisor Mupi con il Telecontrol. È un'idea per Natale.